Attenzione, il treno di passato ordinario prezzi allontanarsi dalla linea tarda. Io sono sicuro che il nuovo macchinista ci ha visto. Ma dì? Il treno regionale 12.21 di Tremitalia, proveniente da Roma Terra, in che direttamente sono delle ore 18 e in arrivo ordinario. Attenzione, allontanarsi dalla linea tarda. Ferma il treno del treno. Trappare il treno in acqua e il treno. Li un treno di la perezza non stato escевойbile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.